Benvenuti in Encel Hamburg. Encel Hamburg è un marchio di orologi di lusso con sede ad Hamburgo, in Germania. Fondata nel 2010 da Georg Schauer e sua moglie Iris, l'azienda si distingue per la produzione artigianale di orologi di alta qualità con movimenti svizzeri e tedeschi. La filosofia di Encel Hamburg è quella di creare pezzi unici e personalizzati utilizzando tecniche tradizionali e materiali pregiati. L'azienda offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per i propri orologi, tra cui quadranti, finiture e cinturini, per soddisfare i gusti e le esigenze dei clienti. Tra i modelli più famosi di Encel Hamburg si annoverano l'Hamburg, un orologio da polso classico con cassa in oro rosa e quadrante in smalto gram-foo, e il Catarina, un orologio da donna con cassa in oro bianco e diamanti. Encel Hamburg è un marchio relativamente giovane, ma già molto apprezzato nel mondo dell'orologeria di lusso. Grazie alla sua attenzione ai particolari e alla qualità superiore dei suoi prodotti, l'azienda ha conquistato un posto di rilievo nel settore. La produzione degli orologi Encel Hamburg è basata su tecniche tradizionali e artigianali, che richiedono grande maestria e attenzione ai dettagli. Ogni orologio viene creato a mano dai maestri orologiai dell'azienda, utilizzando materiali pregiati come l'oro, il platino e il diamante. Inoltre, gli orologi Encel Hamburg sono soggetti a rigorosi controlli di qualità durante tutto il processo di produzione, per garantire che ogni orologio sia perfetto in ogni dettaglio. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso unico e personalizzato, gli orologi Encel Hamburg sono sicuramente da considerare.